E siamo tornati ancora qui in piazza Sant'Antonio, qui a Morbegno, questo pubblico bello, bello, fatevi sentire uomini e donne di Morbegno, complimenti, mi vendo la prima canzone, cioè la prossima canzone, eccolo qua il nostro amichetto che si chiama Alberto, vogliamo cominciare subito? O Alberto ci vuoi dire cosa fai nella vita ad esempio? Lavoro in ospedale. Lavoro in ospedale? Sì. Perfetto, quindi salutiamo tutti gli amici che sono in questo momento in ospedale, auguri a tutti. Ciao. Vai. Mi raccomando, con gritto, vai. Il mio diritto alla follia, c'è un infelice ovunque va, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vedo dei criteri speranti, confezione spray. Seguimi e non ti pentirà, sono io la chiave dei tuoi problemi quali. Con i tuoi mali vedrai, mi vendo, la vita che non ha, in cambio nel tuo inferno, ti do due anni, sai, no, 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 ti vendo, un'altra identità. Ti do quello che il mondo, distratto non ti dà, io il livello che già, a buon prezzo si sa. Ho cambiato un giorno il mio circo, ma il circo vive senza di me, non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te. Nell'arco di una luna, io farò di te, un baro oppure un re. Seguimi e non ti pentino, guarisco i tuoi mali, vedrai, mi vendo, insieme, la gritta che non hai. Mi vendo la mia felicità, ti do quello che il mondo, distratto non ti dà, io mi vendo e già, a buon prezzo si sa. Mi vendo, mi vendo, seguimi, mi vendo, nan, 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 la gritta che non hai, in cambio nel tuo inferno, ti do due anni, sai, no, 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 vivendo, nan, 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 un'altra identità. Ti do quello che in modo Distratto non ti dà Mi vengo! Ciao! Voi a casa, fate l'applauso Tu ragazzino, ragazzino Mazza ragazzino Complimenti, complimenti, bravi!